E' scattata già questa mattina la nuova viabilità a Sciacca nella zona della Marina e precisamente in via Caricatore, dopo l'ultimazione in questo tratto dei lavori per il rifacimento della rete fognaria, che come è noto nell'ultimo periodo stanno interessando anche quest'area della città. Via Caricatore riaperta al traffico, ma solo provvisoriamente, nel senso inverso rispetto a prima dell'inizio dei lavori. In pratica i mezzi provenienti da via Eleonora d'Aragona possono proseguire non più salendo per via Madunnuzza ma scendendo proprio da via Caricatore. E' in via Madunnuzza infatti che adesso si è spostato il cantiere con conseguente chiusura al traffico nel primo tratto, quello interessato dalla prosecuzione dei lavori di rifacimento della rete fognaria. Resta aperto al transito veicolare invece il tratto a monte della stessa via Madunnuzza. I mezzi provenienti da via Gatocle possono quindi imboccare la via Madunnuzza per immettersi lungo discesa San Paolo e scendere nell'area portuale. Naturalmente si tratta di una viabilità straordinaria e temporanea che resterà in vigore fino all'ultimazione dei lavori. Nel frattempo in diversi comuni agrigentini sono in corso diversi interventi di riparazione delle condotte idriche e dei collettori fognari. Ad annunciarli è AICA, l'azienda idrica comuni agrigentini. L'obiettivo è quello di limitare la dispersione idrica e in quest'ottica nel periodo compreso tra l'8 e il 12 aprile scorsi, AICA ha avviato lavori alle reti idriche di Agrigento, più precisamente in via San Giuseppe a Montaperto e in via degli Oleandri. A Sciacca sono stati eseguiti interventi di riparazione alle condotte idriche principali che attraversano via Acerra e Corso Miraglia alla Perriera, mentre è stata oggetto di manutenzione straordinaria la rete idrica di via Prampolini. Interventi chiaramente non sufficienti rispetto alla miriade di perdite idriche che si registrano in tantissime zone della città, che in un periodo di grave emergenza idrica, in cui la distribuzione è stata tra l'altro ridotta proprio a causa della siccità, appaiono sicuramente ancora più paradossali che in passato. Questa, per esempio, è una perdita idrica presente da oltre un anno in via Bellini, nella zona Rocca di Fiori. È stata più volte segnalata dai residenti, pare che qualche sopralluogo sia stato effettuato, ma di intervento di riparazione fino a questo momento neanche l'ombra. Cittadini che sono tornati ancora una volta a segnalare la situazione alla nostra emittente. Tornando ai lavori di Aica, interventi anche a Castel Termini, dove l'azienda ha eseguito i lavori di rifacimento della rete idrica che attraversa via Giorgio Lapira e a Licata, dove oggetto di lavori è stata la rete idrica di Contrada Poliscia. E' seguiti inoltre interventi di riparazione delle reti idriche che attraversano via Marconi e via delle Acace a Ribera, via Crispi a Porto Empedocle e via Retta a Luccasicula. Non solo le reti idriche, Aica fa sapere di aver eseguito, sempre nello stesso periodo, interventi sui collettori fognari in via Mattarella ad Agrigento, via Ciro Menotti e via Prampolini a Sciacca, via Fornace a Caltabellotta, Cortile Collegio a Cattolica Eraclea e Largomuglia a Ioppolo Giancaxio.